Tre punti per ipotecare la permanenza in Serie D, non ancora matematica. Il successo ottenuto al De Marsi con la Miternina ha regalato tre punti comunque pesanti all'Avezzano che cercherà di chiudere definitivamente domenica prossima a Iesi il discorso salvezza. Per la squadra scoppitana arriva la retrocessione matematica dopo una stagione contrassegnata da tante avversità ma anche da errori che dovranno servire da lezione per tentare sin dalla prossima stagione la nuova scalata nella Lega Nazionale di Lettanti. Si comincia con la squadra di casa all'attacco, all'ottavo minuto Di Curzio in area non riesce a trovare lo spiraglio giusto per concludere in maniera vincente permettendo alla difesa ospite di salvare. Il gol è però solo rimandato e arriva al tredicesimo quando Di Curzio si presenta davanti a Di Vincenzo infilandolo per l'1-0. Alla ventesimo punizione Di Bisegna piuttosto telefonata con l'estremo Aquilano che non rischia la presa respingendo con i pugni. Al ventiquattresimo arriva la risposta della formazione ospite che è affidata un tiro di Schiphol parato da Di Girolamo a terra. Intorno alla mezz'ora c'è una nuova fiammata della squadra di casa che prima si rende pericolosa con un tiro di Bisegna deviato in calcio d'angolo da Di Vincenzo e poi sugli sviluppi del corner con un colpo di testa di Menna che alza di poco sopra la traversa. La squadra scoppitana spinge ma manca sempre l'ultimo passaggio in area marsicana. Al trentaquattresimo tocca così a Di Genova in area della Miternina fallire in maniera clamorosa il gol del 2-0 e della sicurezza. Nella ripresa al primo minuto Pollino conclude dall'interno dell'area Aquilana e per poco non inganna Di Vincenzo che riesce a bloccare la palla proprio sulla linea di porta. Al quinto è Di Genova a mancare lo specchio con un tiro dalla distanza. All'ottavo si rivede la squadra di Candido di Felice con una punizione di D'Alessandris che fa correre un brivido a Di Girolamo che vede la palla attraversare l'area di rigore senza che nessun giocatore giallorosso riesca ad intervenire. Al diciottesimo il ne è entrato Mazzaferro all'occasione giusta per pareggiare i conti ma manca di pochissimo il bersaglio grosso con la palla che termina a lato. La gara resta aperta e piacevole da vedere con l'Avezzano che si rivede minacciosamente in avanti con Bisegna che impegna in due tempi al ventiduesimo Di Vincenzo. Poi ancora attacchi dall'una e dall'altra parte prima del triplice fischio finale di Iacovacci di Latina che dà in là la festa bianco-verde per una salvezza ormai sempre più vicina. Lucarelli ora per la salvezza manca davvero l'ultimo sforzo? Sì, dobbiamo farlo, dobbiamo rimanere concentrati nelle ultime due settimane. Oggi era un crocevia importante, abbiamo fatto un finale di campionato secondo me in casa soprattutto positiva, abbiamo incontrato le ultime della classe alla fine del campionato e siamo stati bravi a mantenere concentrazione, a fare questi nove punti in casa. Adesso manca veramente poco, diciamo che il destino è nelle nostre mani anche se potrebbe anche essere nelle mani degli altri perché poi domenica prossima potrebbe bastare una sconfitta di quelle due squadre che sono a 37, noi siamo a 41 e la salvezza è nostra. Vittoria meritata, è mancato però il colpo del 2-0. Sì, perché abbiamo sprecato tanto, volevamo chiuderla sul 2-0 almeno e stare un po' più tranquilli, non ci si è riuscito e alla fine ci siamo dovuti accontentare di questo 1-0, ma soprattutto dei tre punti e mi dispiace per i ragazzi della Miterlina che comunque hanno onorato fino ad oggi la partita e il campionato. Infatti mi complimenti ai ragazzi perché effettivamente a me la partita non mi è dispiaciuta, è stata una buona partita, il campo è molto allentato e c'è il rammarico, c'è il rammarico perché le squadre che abbiamo incontrate le abbiamo viste, tutte per carità, tutte squadre molto attrezzate, però potevamo agguandarli questi play-out, però alla fine adesso pensiamo avanti, il passato fa parte del passato. Pensiamo al futuro, si ripartirà nel campionato regionale di eccellenza con Di Felice in panchina? Sì, sì, l'accordo inizialmente è stato questo, all'inizio non volevo accettare questa situazione perché subentare a 6-7 giorni dalla fine non puoi risolvere niente, ho le mie idee, però è stato positivo questo, è stato positivo perché in questo caso Starcidendo riesce a capire la meternina dei giocatori, come la pensano e quali giocatori possono far caso alla meternina della prossima stagione.